musica Ciao amici di access to games e benvenuti in questo nuovo video io sono michele e questo Questo è l'alpha wise v8 s a mio parere il miglior robot aspirapolvere economico attualmente in commercio pensate costa meno di 150 euro ed è dotato di un sistema di pulizia dual slam Un'evoluzione di quello presente sui rumba di fascia media con giroscopio intelligente e sensore di posizionamento motore brushless con potenza di aspirazione di ben 1300 pia tre modalità di pulizia e ritorno a casa automatico di lobo aspirapolvere ne ho provati tanti nell'ultimo periodo e fermo restando Che secondo me quelli show me sono il top della categoria infatti ora in funzione il robo rock che vi recensivo un po di tempo fa bisogna considerare che i vacuum della show me costano due tre quattro volte il prezzo di questo V8 s che per quello che costa secondo me è superiore a molti robot aspirapolvere che troviamo nei centri commerciali Come i samsung e alcuni rumba sia nelle capacità di pulizia sia nel rapporto qualità prezzo La confezione è curata e presente in marchi ce ed fcc al suo interno troviamo un voluminoso manuale di istruzioni in inglese che vi consiglio di leggere un comodo telecomando con cui interagire con tutte le Funzionalità di questo aspirapolvere Ben due spazzole laterali carica batteria base di ricarica Pettine di pulizia e ovviamente il robot aspirapolvere la prima cosa da fare sarà applicare le due spazzole laterali basterà verificare il verso e spingerle in sede il loro motore è unico e Sincronizzato sono presenti anche due grosse ruote gommate con una discreta escursione per superare piccoli dislivelli spazzola centrale motorizzata è removibile Contenitore serbatoio della polvere da 350 millilitri con doppio filtro epa Anche la batteria è estraibile è facilmente Sostituibile semplicemente aprendo questo vano presenti anche e sensori inferiori Anticaduta e sensori frontali con bumper per la mappatura della casa ricordatevi di attivare l'interruttore inferiore Una volta collegato tutto e posizionato il robot sulla base di ricarica ci basterà premere una volta l'unico tasto presente per avviare la pulizia Automatica il vuoto s inizierà subito a pulire tutta la nostra abitazione o la stanza in cui l'abbiamo Posizionato E una volta terminato tornerà automaticamente alla base di ricarica Per accedere alle altre funzionalità non avremo un'applicazione Dedicata come per esempio sull'iscia mi ma dovremo utilizzare il telecomando Questo rende l'aspirapolvere più immediato anche ai meno avezzi allo smartphone ma preclude alcune caratteristiche Importanti come ad esempio gli aggiornamenti automatici o la possibilità di programmare la pulizia Automatica comunque sia tramite il telecomando potremo avviare ed interrompere la pulizia muovere manualmente il robot farlo tornare alla base di ricarica e scegliere una delle tre modalità di pulizia presenti ovvero Powerful potenza in cui la spira polvere funzionerà alla sua massima potenza d'aspirazione ma unicamente in un'area Circolare per esempio è comodo dopo mangiato posizionandolo sotto il tavolo Oppure in cucina edge bordo ovvero il vuoto s avvierà una pulizia Unicamente dei bordi della cassa o della stanza tralasciando le parti centrali molto comoda Automatica che pulirà di modalità alta potenza non al massimo ma comunque abbastanza per tirare su tanta polvere viti e altra roba L'alpha wise vuoto s ha un'autonomia di circa due ore e alto appena 8 Centimetri è la sua rumolosità è inferiore ai 65 decibel come potete vedere la pulizia è davvero precisa e potente Aspira di tutto anche oggetti pesanti come le viti anche la pulizia del serbatoio è molto semplice così come anche la sostituzione Dei componenti che costano davvero pochissimo e che mi linko qui sotto in descrizione video che dire in conclusione ragazzi Consiglio l'alpha wise vuoto s a chiunque voglia un aspirapolvere robot economico efficiente è soprattutto Facile da utilizzare non è adatto ai più smanettoni o comunque a chi vuole funzionalità avanzate smart che purtroppo sono preclusi e dall'assenza dell'applicazione Il suo telecomando è davvero comodissimo e permette praticamente a chiunque di utilizzare questo robot costa davvero Pochissimo spesso anche meno di 150 euro e lo trovate unicamente su gear best dei link qui sotto in descrizione video Vi ricordo che alfa wise è un marchio interno allo store gear best sempre qui sotto vi lascio anche il link per acquistare gli Accessori di cambi di questo aspirapolvere e link per entrare il nostro canale telegram dell'offerta e gruppo facebook Drone e tecnologia italia è il nostro canale istan gram questo è tutto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto E se volete supportare questo canale noi non chiediamo nessuna donazione ma semplice like un commento una condivisione Iscrivetevi se non l'avete già fatto è questo è tutto alla prossima ciao amici e buona pulizia